grazie a giuse murigno anzi prima di salutarla se vuole salutare perché la sta ascoltando nei minuti negli istanti finali luciano spalletti non so magari vuole grande spallettone grande ma chi che vuoi vincere tutte le partite ma stai buono che sei pericoloso secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori a casa abbiamo tutti gli amuleti questo ti girerà complimenti amico ciao amico mio grazie a giuse murigno e benvenuto a luciano spalletti